Filippo, sei il nuovo presidente dell'Arci? Sì, da qualche settimana abbiamo avviato in tutta Italia i congressi di circolo provinciali, regionali dell'Arci, abbiamo realizzato anche il congresso nazionale dall'1 al 4 di dicembre a Roma e siamo in fase di ripartenza, in un momento molto delicato, sta entrando in vigore il registro nazionale del terzo settore, tutta la riforma e il codice che sta ovviamente portando molte, moltissime novità, quindi abbiamo rinnovato tutti quanti gli organismi, abbiamo prodotto all'interno dei congressi tutte le innovazioni necessarie per essere pronti e per affrontare questa nuova stagione del migliore dei modi. Hai già delle idee su cosa fare? L'Azione dell'Arci è un'azione che ha tre gambe, l'ha sempre avuta e continuerà ad averle, quella sociale, quella ambientale e quella culturale. Su queste tre gambe noi proveremo a costruire forme di partecipazione, di innovazione, provando a costruire reti reali e collaborazioni vere in questa città perché il nostro problema più importante è quello della affrontumazione a tutti i livelli. Oltre questo dobbiamo dire che di problemi in questi tre settori ne abbiamo tanti? Abbiamo tantissimi problemi, in quello ambientale soprattutto, ma anche in quello sociale. Quello culturale è abbastanza vivace ma non ha il supporto necessario da parte delle istituzioni e quindi bisognerà capire come, in quale modo, riuscire non tanto a fare delle iniziative culturali nella nostra città, nella nostra provincia, ma a quanto renderle stabili perché questo è il passaggio più importante. Quindi le istituzioni pubbliche devono farlo parte ma anche i privati. Aggiungiamo che questo è un nuovo impegno per te ma che continua quello che vuole essere il tuo motore, cioè aiutare questa città ad uscire dalla crisi. Aiutare la città ad uscire dalla crisi, ad uscire da una situazione di marginalità, oserei dire anche di provincialismo, in una città che è completamente avvolta da una crisi istituzionale di partecipazione enorme e quindi è un lavoro grandissimo che ovviamente non possiamo fare da soli ma proveremo a fare con tutti quanti quelli che sono intenzionati a farlo insieme a noi. Grazie a tutti.